Una ventina di automobilisti, non tutti giovanissimi, lungo la raddoppiata statale 640, la Grigento Caltanissetta, sono stati sanzionati. Altri, ma un numero esiguo, sono stati intercettati e bloccati invece sul versante statale 115. Tutti sono stati naturalmente sanzionati dagli agenti della polizia stradale che è coordinata dal vicequestore Andrea Morreale. La multa è stata in media di 280 euro. Il ritiro della patente di guida è invece ancora in fase di valutazione, anche perché dipende di quanti chilometri orari hanno superato il limite di velocità. Venti, le contravvenzioni elevate, durante l'ultimo in ordine di tempo, controllo effettuato dalla polizia stradale di Grigento. Ad immortalare le auto è stato il telelaser Trucam, di cui è in bossesso la stradale. Si tratta di un'apparecchiatura dotata di videocamera che è in grado di generare brevi video che servono a supporto delle infrazioni accertate. Sono state inoltre anche pizzicate tre auto senza assicurazione e senza revisione. Anche in questo caso sono scattate le contravvenzioni.